Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo video del canale, oggi vi portiamo qualcosa di diverso, portiamo una bella live, una bella reaction, diciamo in presa diretta, non ho uno script, non ho un copione, non ho preparato grandi cose. Mi sono imbattuto di recente in questo video, si chiama come Yu-Gi-Oh! è diventato irrilevante, ascesa e declino, bello scritto caratterico di tali del gioco, di tale Dario Scala. Siccome io so perfettamente che Yu-Gi-Oh! non è diventato irrilevante, perché non credo proprio sia irrilevante, volevo commentare con voi questo video, vediamo dove va a parare e capiamo un po' dove vuole andare a parare, cioè nel senso perché secondo lui Yu-Gi-Oh! è diventato irrilevante. Irrilevante vuol dire che non ci gioca nessuno, che è totalmente morto, no? Cioè se Yu-Gi-Oh! fosse davvero irrilevante sarebbe chiusa, cioè Konami avrebbe chiuso il gioco. Siamo d'accordo che quindi parte delle premesse false, secondo me possiamo definire le premesse false. Va bene, vediamo un po' come parte. Se sei nato tra gli anni 90 e i primi 2000, almeno una volta nella tua vita hai tenuto in mano una carta di Yu-Gi-Oh! Anzitutto complimenti per il montaggio. Secondo, sì, è vero. Io ricordo benissimo quel momento. Era il 2009. Avevo sette anni e ero a casa di mio cugino quando, frugando tra i centinaia di carte, mi ritrovo davanti Drago Polvere di Stelle. 2009, aveva sette anni, quindi è un 2002. Oh signore, Dio. Posso neanche dire che siano Yu-Gi-Boomer. Il boomerone sono io. Va bene. Stardust Dragon. Grandissima carta, veramente bella. Un pochino ha dei problemi di design con questi orb, i famosi Konami orb. Cioè a un certo punto la Konami ha iniziato a disegnare gli artwork delle carte infilandoci queste palle dentro alle cose. Però secondo me è gran bella carta. Vabbè, andiamo avanti, scusate. Bellezza, stupore, guarda come sbrilluccica. Minchia. Questa settimana dopo ero già in fissa. Compravo pacchetti fregando soldi dal portafoglio di mia madre. Costruvo mazzi e giocavo con i miei amici. Per quello che un bambino... Non si fa. Non si rubano i soldi dai portafogli della mamma. Di sette anni poteva fare leggendo le regole in questo libretto. Nel mio caso questa passione è continuata per anni. A 12-13 anni passavo circa tre ore al giorno su Dwelling Network. È il legame imprescindibile. Non passate tre dieci ore al giorno su Dwelling Network, per favore. Con quella prima carta mi ha portato a giocare come un ossessionato sempre e solo un mazzo. Il mazzo sincro. Ma... Il mazzo sincro cosa vuol dire? Cioè non non è che c'era un mazzo sincro. Sincron? Non lo so. Ipotizzo. Cioè... Devo capire... Drago polvere di stelle. Ok. Va bene. Ma partiamo dall'inizio. La storia di Yugi è lunga, complessa e guidata dal caso. Yugi ho... Guidata dal caso? In che senso? Vabbè. Nasce nel 1996. Sì. Dalla matita di Kazuki Takaka. Mio padre. L'idea iniziale era totalmente differente da quella che conosciamo di oggi. Vero. L'opera ricalcava le caratteristiche del manga anni 90, quindi le classiche scene dei recenti a scuola, bulli e criminali spacconi. Il protagonista, Yugi, veniva mostrato come il ragazzino debole. Spesso insicuro, però attraverso i giochi da tavolo otteneva il suo riscatto sconfiggendo nemici che lo ostacolavano grazie alla possessione di un faraone dell'antico Egitto. Ci tengo a precisare attraverso i giochi da tavolo. Sì, perché inizialmente Yugi non era strettamente legato al gioco di katte. Tra i tanti giochi svolti dal protagonista Yugi, solo in due capitoli gioca a Magic and Wizards. Sì, è vero. Un gioco che poi gli hanno dovuto cambiare il nome perché altrimenti Wizard of the Coast li avrebbe detonati perché ovviamente era un riferimento a Magic the Gathering. Un gioco di carte importato dall'estero che il nonno di Yugi mostra al nipote. Un chiaro riferimento a Magic the Gathering, nonché è il miglior gioco di carte della storia e chi dice il contrario è un coglione. Opinione forte, ma sento di essere d'accordo. Pure tra tutti i giochi mostrati nel manga, Magic and Wizards fu quello che affascinò migliaia di lettori, che chiesero una versione fisica del gioco. Mi viene da dire poveri illusi dato che volevano spendere soldi per una cosa che non esisteva. Da lì però inizio... Beh, il Giappone funziona così. ...so il cambiamento. Il gioco venne rinominato Dual Monsters in quanto il dio del copyright gli puntava un cecchino alla fronte e il manga e l'anime cambiarono strada mettendo il gioco di carte al centro dell'universo di Yugi. Sni, vero. Tra l'altro il manga è appena tornato in edicola. È appena. In realtà è già uscito l'ultimo volume da relativamente poco. Vi consiglio di recuperarlo. Sono 13 volumi belli grossi, ma ne vale la pena. Il motivo era chiaro. Vi era tantissima domanda e un margine di profitto enorme. Così l'anime e il manga finirono per diventare una pubblicità per promuovere il gioco di carte. Nel 2002 uscì il primo set, la leggenda del drago bianco chi blu, sotto il marchio Konami, che negli anni si è occupata di creare quante più espansioni e carte possibili, ottenendo nel 2009 il Guinness World Record per numero di carte vendute. 22,5 miliardi. Certo, poi bisognerebbe vedere quante carte sono carta straccia e quante sono veramente belle. Bisogna anche capire cosa vuol dire aver venduto 22,5 miliardi di carte, visto che vendi i pacchetti chiusi. Non lo so. Vabbè. Infatti, con il passare del tempo, Yu-Gi-Oh! perse il suo smalto. Ricorda che... In che senso? Ricordo bene il giorno in cui la Konami stravolse il gioco e di conseguenza la mia felice vita da giocatore spegne... Se tiro fuori i pendoli, bestemmio. ...tenendo così la mia passione per Yu-Gi-Oh! Che con il passare del tempo, divenne per me, per tutti i miei coetanei, sempre più rilevante. Allora, amici a casa, se fra di voi ci sono dei 2002 o più giovani che ancora giocano a Yu-Gi-Oh!, per favore scrivetelo e fatemi capire perché dovrebbe essere rilevante per voi e i vostri coetanei. Io ormai sono vecchio, non faccio testo. Per iniziare, ci tengo a dire che ciò che mi ha sempre affascinato del primissimo Yu-Gi-Oh! è la sua estetica. Ok. I primi set di carte hanno una chiara connotazione dark fantasy con riferimenti esoterici al mondo egiziano. Ades è il mondo egiziano? Ok. Basti pensare che i mostri vengono evocati, vengono fatti come tributo, cioè significati. Quindi non è proprio il mondo egiziano, ma riferimenti esoterici e basta, ok. Provocare mostri più forti e il tema della morte è sempre presente, anche se nel riadattamento italiano prende il nome di Regno delle Tenebre, probabilmente perché in Occidente il tema della morte è un italiano, tranne per la Mediaset quando deve imbandire interi show su casi di cronacanera. Va bene, ci sta la critichina, dai. Anche molte carte furono censurate perché potevano potenzialmente ortare le persone in quanto mostravano simboli della cultura occidentale. Non è solo perché mostravano simboli della cultura occidentale, ma perché mostravano simboli religiosi e quindi si vuole evitare la censura e quindi ci si autocensura. Contesti non del tutto chiari o addirittura blasfemi. Mamma mia che paura, una tomba a forma di croce. C'è un problema. Ho già spiegato. Per farla breve, i primi set di carte rappresentavano creature mostruose, figure bislacche e oggetti maligni. Non ho qui carte vecchie, ma non è proprio tutto così. Semplicemente una figata. Questa estetica che rendeva il gioco unico è stata però via via abbandonata per un percorso più family friendly e accettabile dal grande pubblico, a cui è più semplice vendere l'immagine di un robot super figo che di un insetto umanoide strano. Scusa, tu hai iniziato a giocare con i synchro, ti sei innamorato dei synchro. I synchro hanno già un'estetica più aggiornata, perché già da Generation Next in poi l'estetica delle carte si è discostata da quei mostracci dell'inizio di Duel Monster. Non capisco qual è il tuo problema. Tu non hai iniziato a giocare con Goat, hai iniziato a giocare già con il 2009, da Edison in poi, non so, sì, pre-Edison addirittura. Non capisco, non capisco davvero ragazzi. Cioè, non capisco dove voglio arrivare. A mal in cuore, e adesso capirete perché, devo ammettere che la spaccatura è avvenuta nel 2008. Con l'uscita della scannivata dell'espansione... Ma tu hai iniziato a giocare dopo? Cioè, hai conosciuto il gioco dopo? ...espansione Yu-Gi-Oh 5DS. Sì, l'espansione in... 5DS. ...in cui introdusse l'esincro, le mie carte preferite. Le carte che hanno ossessionato la mia intanzia. Capite quindi quanto per me sia difficile dire questo? La serie 5DS... Ok. ...esincro è forse la più bella e esincro sono obiettivamente carte bellissime. Ma è in questa espansione che vediamo il mondo di Yu-Gi-Oh spaccarsi e iniziare una trasformazione estetica e narrativa. Se... Ok. Prima avevamo delle carte magari non sempre bellissime, però con un'identità, delle creature ben definite di cui ancora a distanza di anni ricordiamo le linee e la forma, adesso abbiamo invece una varietà troppo ampia. Quindi? Cioè, semplicemente aumentando il numero di carte stampate aumenta anche la varietà delle carte. Alcuni artwork in stile manga, altri sono semplicemente imbarazzanti e altri ancora sono mostri giganti, pieni di colori, linee e robe che li rendono fighissimi, ma allo stesso tempo è estremamente difficile da ricordare. No? Se mi chiedeste di disegnare Utopia, beh, per me è un ammasso di roba bianca e dorata di cui non ricordo niente in particolare. E questo è un problema tuo però, fratello. Cioè, Utopia ha un artwork abbastanza iconico, è un guerriero alato che tira una spadata verso, cioè, anche, verso, diciamo, lo spettatore della carta. È anche un disegno molto dinamico, molto bellino, nel senso, non... mi sembra abbastanza riconoscibile. Cioè, se io mi trovassi davanti un artwork di Utopia messo in posa diversa, riuscirei comunque a riconoscere che è Utopia e non un'altra carta, scusa, non capisco. Di drago bianco occhi blu ricordo ogni singola linea. Beh, è anche un disegno molto più semplice. Tutto questo lo hanno fatto sicuramente per dialogare con un pubblico più infantile, che però ha inclinato il dialogo con i giocatori di lunga data e... Non penso proprio. ...con noi ragazzi. Evocare Fluff al Dog non fa lo stesso effetto di evocare Mago Nero o Teschio Avocato. Perché devi avere una argomentazione da Yogi Boomer se tu hai iniziato a giocare con i sincro? Non capisco. Cioè, tu hai iniziato a giocare con i sincro. Siccome le parole non bastano, a seguire vi mostro il confronto tra carte di vecchie edizioni con carte di... Sono pronto, immagino. Dimmi Koala Vampiro cosa ha di strano, a parte che è un Koala Vampiro. Cos'è successo a quel demone elementale? Porco Giuda. Che problema ha Tan Tan? Che tra l'altro non è una nuova edizione, Tan Tan. Shadow Specters non è una nuova edizione. Tra l'altro, Shadow Specters, se non ricordo male... Un secondo solo. Più o meno nel periodo di Shadow Specters, che però è in Secret Forces, è uscito uno dei miei archetipi preferiti, che è Necroz. Ok? Che, stando a lui, quindi è un archetipo più recente. Voi mi volete dire che il Necroz di Birionac è un brutto artwork, o è addirittura imbarazzante, o che Necroz di Trisciula sia un artwork imbarazzante, brutto. Cioè, non lo so, non sono d'accordo. O che, ad esempio, se vi faccio vedere il Drago Corallo, sia irriconoscibile completamente e non si riesca a capire com'è fatto il mostro. Tan Tan, ad esempio, è un artwork molto semplice, si capisce perfettamente com'è fatto il mostro. Può non piacerti, ma c'è una varietà più ampia di carte e di artwork e di archetipi, per cui, se non ti piace giocare un archetipo con gli animaletti carini, giocane uno con i mostroni. Di recente è uscito Memento, mi viene in mente, che è un archetipo basato su mostrazzi, basati tra l'altro su quelli vecchi. Quindi, non è vero che fanno solo loli e orobottoni, o animali pucciosi. Poi, Naturia Farfalla. Naturia Farfalla. A quanto detto finora, si aggiunge un altro problema. Immaginate di smettere di giocare per vari motivi a Yu-Gi-Oh! Magari non potete permettervi economicamente tutte le carte, perché siete piccoli e poveri, del tipo che dovete scegliere se comprare il pacchetto di carte o comprare la merenda per la ricreazione. Magari... Succede anche ai trentenni, non ti preoccupare. Magari non c'è una fumetteria nel vostro paese e chiudono Dwelling Network. Quindi, vi allontanate pian piano dal gioco fino ad abbandonare il deck in un angolo oscuro della cameretta. Improvvisamente, però, dopo anni, vi viene voglia di tornare a giocare. Disponterete il vostro deck, se vostra madre non l'ha buttato, e provate a fare un giro in fumetteria, nei nuovi videogiochi e nei vari simulatori. Beh, mi dispiace dirvelo, ma vi renderete presto conto che il vostro deck sarà semplicemente inutile. E grazie al cazzo. Ah, ecco, il problema del power creep spiegato. Sentiamo, perché il power creep esiste solo in Yu-Gi-Oh! Mi raccomando, in Magic, se vuoi tirarti fuori un mazzo del 15-18, giocherà benissimo. Cioè, se io prendo un mazzo modern del 2014, gioca perfettamente al netto delle carte bannate con un mazzo del 2024. Perché nel frattempo sono cambiate tantissime regole, e il meta è stato totalmente stravolto. Anche a distanza... Non succede in nessun gioco mai, eh? ...di due anni, un mazzo competitivo di centinaia di euro, se non migliaia, potrebbe diventare un deck così, per giocare tra amici. Per non dire che la sua utilità è pari alle carte pubblicitarie che trovate dentro la cassetta della posta. Beh, sì, ho fatto l'esempio con Necroz. Necroz è stato uno dei mazzi più costosi nella storia da montare e dopo qualche anno ormai è un for fun. È vero, il power creep esiste. Questo fenomeno, noto come power creep, è sempre esistito nei giochi di carte. Appunto. Ma Yu-Gi-Oh! ha raggiunto livelli estremi. L'introduzione costante di carte, sempre più potente, ha reso obsolete intere architetture di deck, forzando i giocatori a investire continuamente in nuove carte per rimanere competitivi. Questo abbassa di molto le possibilità che un vecchio giocatore torni a giocare, perché solo fa si ritrova davanti un mondo troppo diverso e alienante. Possiamo dire con tranquillità che non sanno sfruttare benissimo il fattore nostalgia. Che pot... No! Ehm... 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 No! No! Non continuano a fare archetipi su Drago Bianco, Mago Nero, adesso è uscito Exodia. No? Non lo sanno sfruttare? Non sei sicuro di sapere quello che stai dicendo? Potrebbe essere un incipit per far tornare a giocare migliaia di persone. Parallelamente, la complessità di gioco è cresciuta in modo esponenziale. È normale, il gioco deve diventare più complesso. Nei primi anni 2000, spiegare Yu-Gi-Oh! a un nuovo giocatore richiedeva pochi minuti. Oggi tra Link Summon, Pendulum, Syncric, Season, miriadi di effetti e contrafetti, capire il gioco è diventato un compito arduo anche per i veterani. Questa... No? La combinazione di power creep e complessità crescente ha trasformato Yu-Gi-Oh! da un hobby accessibile a un pozzo senza fondo per il portafoglio e la pazienza dei giocatori, allontanando sia i fan casual che i potenziali nuovi giocatori professionisti. Infine, riguardando la storia di Yu-Gi-Oh! c'è un momento esatto in cui la Konami ha deciso di spancurare tutti i primi fan stravolgendo in modo irreparabile il gioco. Sta per tirare fuori Pendulum. Comunque, quello che ha detto finora non è totalmente sbagliato. Nel senso che, sì, è vero, la Konami sta allontanando i giocatori con il car design, come ho spiegato già nello scorso video sulla Banned. Sta allontanando i giocatori professionisti con un prize support ridicolo. Ma non c'entra niente con quello che stai dicendo tu, Dario. Non capisco. Ricordo bene quel giorno. Era il 2014. Ricordo che avevo finito da poche settimane il mio deck synchro. Ero felicissimo, ma Konami decisi di prendere il gioco, buttarlo nel cesso e rivoluzionarlo, introducendo i mostri Pendulum. Provate a prendere il meta del 2012 e il meta del 2016. Cosa è successo? Cosa sono queste cose al centro del campo? Perché ci sono carte di 100 colori diversi? Questo non è Yu-Gi-Oh! Questo è un altro gioco. Una delle meccaniche più divertenti del gioco, i pendoli. Va bene. Il danno al gioco di carte fu evidente, tant'è che nelle espansioni successive la Konami provò a ricreare un equilibrio che però non sarebbe mai tornato. Non è vero. In quanto prima ancora di stravolgere il gioco aveva semplicemente scazzato migliaia di giocatori che semplicemente abbandonarono Yu-Gi-Oh! o continuarono a giocare alla vecchia maniera. Il che è un vero peccato perché delle persone legate al gioco, probabilmente anche di una certa età quindi depressi abbastanza per spendere gran parte dello stipendio che ottengono da un lavoro che gli causa depressione in carte che però non gli piacciono. Piuttosto preferiscono giocare con il vecchio mazzo del 2012 e al massimo spendono centinaia di euro se non migliaia presso privati per creare il loro deck preferito tutto foil. Questo per la Konami significa Ok, andiamo oltre. Perdere milioni di euro In conclusione Per quanto il cambiamento sia In conclusione cioè non hai detto niente Va bene Necessario Soprattutto per un gioco di carte che ha quasi 30 anni e che per forza di cosa deve introdurre novità Oggi ho cercato di raccontarvi come una serie di decisioni apparentemente volte a mantenere il gioco fresco Cioè l'hai appena detto tu è un gioco che ha 30 anni deve introdurre delle meccaniche diverse per rimanere fresco e avere appeal verso nuovi giocatori e anche verso i vecchi giocatori perché ti assicuro che se tu avessi giocato a GOT per tutta la tua vita ti saresti sfrangato alla minchia già dopo due anni No, invece contribuito al suo declino Va precisato che si tratta di un declino artistico, identitario e ludico in quanto a livello economico il brand Yu-Gi-Oh! declino artistico non è vero perché le artwork sono sempre meglio sono sempre più curate gli archetipi sono sempre più vari Yu-Gi-Oh! è l'unico gioco dove puoi giocare dove puoi vedere una partita tra un mazzo basato su navi fatte di sushi e po' ragazzine spiriti che guidano robot giganti cioè capisci è l'unico gioco in cui puoi vedere una cosa del genere unico gioco abbastanza folle tra quelli grossi giocati anche da noi qui in occidente a poter fare a poter permettersi di fare una roba del genere potersi glielo permettere perché magic non può permettersi di fare una cosa del genere verrebbe verrebbe distrutto dai fan subito e il fatto che Yu-Gi-Oh! lo puoi fare è quello il bello del gioco la varietà di archetipi che ci sono che c'è un archetipo per tutti i gusti voglio giocare l'archetipo con i robottoni c'è voglio giocare i draghi c'è voglio giocare gli zombie c'è poi che non tutti siano competitivamente viabili che non tutti mi permettono di vincere il mondiale è normale non esiste un gioco di carte in cui tutti i mazzi possono vincere indipendentemente dal da tutto non esiste non esiste e anche il 2012 no anche il 2009 quando hai iniziato tu a giocare c'era un meta ben preciso non potevi giocare il mazzo sincro a caso dovevi giocare un mazzo in un certo modo se volevi competere davvero certo giocare tu te lo ricordi magari perché giocavi all'oratorio con i tuoi amici ma non è la stessa cosa anch'io oggi se io prendo un ragazzino che gioca all'oratorio con i suoi amici con un mazzo totalmente inventato tra dieci anni quando scoprirà qual è il vero meta dirà ah che brutto adesso me lo ricordo com'era nel 2024 che era così bello quando potevo giocare che ne so il mazzo sushi con le divinità egizie sto sparando a caso mentre oggi il meta è diverso e noi ci ricordiamo che il 2024 ci sono stati due dei meta più noiosi in assoluto di cosa stiamo parlando sotto Konami va a gonfie vele ma oggi più che mai ci rendiamo conto guardando il panorama culturale che successo economico non coincide con successo artistico anzi le due strade sembrano sempre più distanti a mal in cuore devo mettere che Yu-Gi-Oh per me resterà semplicemente un bellissimo ricordo sono felice di aver giocato a questo gioco nella sua epoca d'oro quando tra i banchi di scuola circolavano centinaia di carte ogni ricreazione adesso secondo me zero sono felice di avere a casa ma girano zero perché i ragazzini di oggi non sono più interessati nei giochi da tavolo piuttosto magari puoi trovare un ragazzino che gioca a Master Duel ma anche lì è difficile ma non perché Yu-Gi-Oh sia irrilevante ma perché è cambiato il modo di giocare di divertirsi e di svagarsi delle nuove generazioni le carte che per me hanno un valore affettivo inestimabile e ho un ricordo bellissimo della dashboard di Dwelling Network secondo me ha manifesto il miglior simulatore in circolazione se vi interessa l'argomento potete fare un video sopra la sua storia scrivetemelo nei commenti nonostante tutto non penso che tornerò mai a giocare seriamente a questo gioco semplicemente perché non è più neanche lontanamente quello che io ricordo se questo viaggio attraverso l'evoluzione e il declino di Yu-Gi-Oh ti è piaciuto ti invito a iscriverti per supportarmi ci vediamo al prossimo video ma non hai detto nulla ragazzi ha fatto 8 minuti e 58 di niente non ha detto niente cioè ha detto mi ricordo io ho iniziato con i sincro gli artwork che prima erano belli adesso sono brutti facendo vedere degli artwork orripilanti messi di fronte a dei capolavori se io vado a prendermi non so ragazzi se sto prendendo a caso cioè voi mi stai dicendo che non so il Don Zalug che adesso ce l'ho qui lo start sia allo stesso livello che ne so del lamento dell'ostige no ovviamente però cioè prendiamo una carta vecchia la grande convergenza grande convergenza è un bell'artwork secondo voi no di contro se io vado a prendere toh prendo una carta a caso una carta che toh triage master triage master è un bell'artwork ed è nuovo triage master no è attivamente è nuovo triage master no cioè mi volete dire che che ne so Zeus ha un artwork brutto boh non non lo so non cioè allora la cosa del power clip allora un gioco ha bisogno di mantenersi economicamente per mantenersi economicamente deve vendere per vendere deve incentivare i clienti ad acquistare un gioco come yugioh che non ha una rotazione imposta da da un formato cioè non ruotano le espansioni come in pokemon o come in alcuni formati di magic e cosa vuol dire che in yugioh è peggio di altri giochi no semplicemente ha bisogno di spingerti poi può essere che il design di alcune carte il design di alcuni archetipi possa essere discutibile ne abbiamo già parlato nello scorso video ma dire che il power clip è un problema allora non giocare a un gioco di carte il meta non è più quello di un tempo tu non hai mai vissuto il meta probabilmente perché il mazzo sincro così a cazzo non hai specificato nulla come lo giocavi con che archetipo con che qual'era la strategia del mazzo se nel 2015 quindi tu hai detto iniziato nel 2009 e smesso nel 2012 non lo so tre anni dopo pretendi di riprendere in mano lo stesso mazzo senza cambiare una carta ma ad oggi se io acquistassi oggi il mazzo più competitivo che c'è prendo non lo so snake eye fin smith boh tutto tutto spendo 600 euro di mazzo vabbè adesso costa molto meno ma lo prendevo quando era full power spendevo 1200 euro di mazzo tra un anno sarà diverso magari tra un anno snake eye sarà for fun ma è normale ma non sono d'accordo su su quello che ha detto ma per niente ma soprattutto dire a me non piace più yugioh che senso ha cioè qual è la correlazione con yugioh è irrilevante è diventato irrilevante è un'affermazione assoluta cioè vuol dire per tutti yugioh è irrilevante per me per i miei coetanei io non penso che tutti i 2002 ritengano che yugioh sia irrilevante e però non hai detto nulla Dario adesso non so se mai vedrai questa questa reaction non hai detto nulla in questo in questo video ma nulla sul power creep boh l'impatto dei mostri pendulum io sento sempre parlare ah il pendulum hanno distrutto il gioco i pendulum sono durati sei mesi un anno i pendulum dopo il 2015 non dico che sono diventati irrilevanti ma nel meta ci sono stati ben poco hanno avuto un attimo di di guizzo nel 2019 ma dopo il ban di dopo la ban del del gennaio del 2020 quando hanno segato tutto il metatos e quindi hanno hanno bannato anche electromite basta cioè metalfosi electromite basta cioè non pendulum non ha più fatto nulla ad oggi pendulum a tre quarti dell'extra che bannato perché non ha boss monster di archetipo da evocare facilmente gli hanno tolto barone gli hanno tolto savage gli hanno tolto pollusa cosa fai ip ip into sp wow cioè questo chiaramente non è parlare con cognizione di causa qui hai buttato dentro quattro ricordi che avevi dalla tua infanzia e ci hai voluto fare un video sopra però stai parlando per assoluti che non esistono ho visto abbastanza ragazzi direi che possiamo chiudere qui io vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere la vostra nei commenti in toni civili per favore sono comunque le opinioni di Dario Scala non sono le mie opinioni le rispetto come tali ma secondo me ci sono delle fallacce logiche in quello che ha detto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao